A Castelbasso, piccolo borgo della provincia Teramana, ospiti a Palazzo Clemente della Fondazione Malvina Menegas, le opere di Enzo Cucchi, un esordio come artista nel 1977 dopo aver lavorato come restauratore di libri e quadri, nato a Morro d'Alba, ad Ancona, è uno dei più importanti artisti italiani che attraverso il gesto, la materia e il gioco riporta nella sua arte visioni oniriche, segni primordiali ed istintivi, concentrando l'attenzione sul significato molteplice delle forme nelle quali materializza le sue battaglie, le proporzioni, gli sguardi di luce e le infinite possibilità. La mostra, concepita come un escursus della sua produzione pittorica e disegnativa degli ultimi dieci anni, a cura di Ilaria Bernardi, rimarrà aperta fino al 27 agosto. Le opere di Enzo Cucchi si fanno respiro e affanno tra l'eccesso e l'isolamento dei segni, nei quali paura e bellezza coesistono guardando nella stessa direzione poetica, e poi il continuo rimando alle tarantelle a Carion, messe nelle moderne visioni in plastilina realizzate con gli studenti dell'Accademia di Bologna, fatte di attraversamenti, passaggi obbligati, avvicinamenti, luci e tenebre.